Cari genitori, ho il piacere di comunicarvi che la Scuola Nuoto Event dell'Infernetto si trasferisce con tutto il suo staff a Ossia in una struttura dove avrà una piscina da 25 metri e una all'esterno. Per ringraziarvi della vostra fiducia riposta in tutti questi anni, faremo una grande festa di fine anno che si dirà il 18 giugno con un orario dalle 9.30 alle 12.30 per divertirci tutti insieme. Approfitto anche per dirvi che sono aperte le prescrizioni qui a Ossia e che faremo dei corsi di nuoto gratuiti per tutti voi. Vi aspettiamo numerosi, grazie della fiducia, ciao!